Stefano Salieri dopo la sconfitta con Udine è una sconfitta pesante, Selli però onestamente è una sconfitta fra due squadre che sono di un livello totalmente diverso. Sì, concordo, siamo su due livelli diversi, Udine ha fatto una grande partita, onora loro, hanno trovato canestri con 5-6 giocatori da 3 punti, i 10 su 15 dei primi due tempini loro da 3 punti hanno fatto la differenza anche dopo moralmente e tutto. Io voglio dire che però non mi è dispiaciuta la mia squadra relativamente, anche se è un paradosso, una partita che perdi nettamente in questo modo qua, 35 punti, però non mi è dispiaciuta per l'atteggiamento, ci abbiamo dato, abbiamo fatto il meglio di quello che potevamo fare con quelli che siamo. Mi è piaciuto, sono contentissimo allora della prestazione di Giampaoli perché è un giocatore che sta riprendendo fiducia su quello che è per noi un giocatore fondamentale. Lui e Momo veramente sono due certezze e noi di loro dobbiamo andare avanti. Ci deve servire questo periodo qui paradossalmente dove affrontiamo squadre di un altro livello al momento rispetto a noi perché ci serve per crescere, per fare esperienza, per acquisire anche quella durezza che a tratti ci manca però sapendo di dover lottare sempre per stare a galla. Poi magari speriamo fra un mese quando rientrerà anche Tommaso Bianchi di avere acquisito ancora di più quella amalgama che però anche oggi ho visto che stiamo andando avanti su quello e sono contento.